ciao ragazzi ciao ragazzi grazie per aver cliccato sull'anteprima di questo nuovo video manco da tantissimo sul tubo finalmente ho trovato 5 barra 10 minuti da passare in vostra compagnia sascia permettendo perché ovviamente appena visto che ci ripropa preparavamo a girare un video si è subito fatta avanti come avete visto andiamo a spacchettare avon da quando sono diventata responsabile di zona praticamente non compro più per me e quindi non riesco a fare gli spacchettamenti perché arrivano sì i pacchi e ma molto spesso sono magari premi per per la struttura e quindi mi sembra abbastanza inutile ecco la fascia in azione mi sembra abbastanza inutile andare a mostrarvi magari lo stesso prodotto acquistato a centinaia di pezzi questo invece è un pacchettino sfizio per la sottoscritta finalmente e quindi andiamo a vedere che cosa ho preso lo andiamo a scoprire adesso insieme non sono tantissimi pezzi ma credo di poter affermare che sono abbastanza curiosi allora inizio dalla prima cosa perché nel frattempo cerco anche di accendervela così riesco a farvela vedere proprio bene allora arriva in questa confezione qua in realtà io l'ho già aperta all'interno è impacchettata molto bene con tutto il polistirolo quindi voi adesso la vedete così ma semplicemente proprio per evitare un eccesso di spacchettamento in live è questa famosissima perché comunque sia c'è già stata fontana per incenso chiamiamola così è fatta in questo modo a tipo ceramica e poi arrivano 5 conetti di incenso capita spesso almeno alle consulenti della mia struttura che venga chiesto dalle clienti dove poi si può acquistare l'incenso in realtà è abbastanza facile si può trovare su amazon nei negozi etnici nelle fiere spesso c'è la bancarella indiana con la bigiotteria d'argento e hanno spessissimo anche gli incensi ovviamente hanno anche questi a forma di cono ho fatto tutto sto macello e poi mi areno su una piccola confezione di plastica va benissimo le forbici come al solito come da tradizione non le ho portate e vai ce la faremo ragazze come vi dicevo volevo accenderla in modo che appena iniziava l'effetto lo poteste vedere in video ok andiamo ad accenderci l'incenso sembra tutto semplice poi diventa tutto difficilissimo quando giri ok intanto la profumazione è veramente gradevole ok l'abbiamo messo in posizione tra poco dovrebbe iniziare l'effetto discesa del fumo attendiamo pazientemente che cominci e dopo cerco di mostrarvelo sperando che in video sia effettivamente visibile ragazze praticamente questo è un pacco dove io ovviamente un prodotto l'ho cannato perché figuratevi non sarei me stessa altrimenti dove ci sono tanti tanti pigiami perché chi mi conosce lo sa io amo stare comoda a casa quindi appena entro a casa anche se so che poi dopo devo riuscire mi metto comunque sia un abbigliamento casalingo e questo però ovviamente li stressa tantissimo perché lavaggi continui e niente ragazze ho deciso che era giunto il momento di fare un bel cambio un bel ripulisti di pigiami di vari tipi quindi li troviamo sia a manica corta a manica lunga e iniziamo da questo allora il prodotto si chiama vienna walls eccolo qua lo andiamo ad aprire insieme ok tanto è tutta roba mia quindi ho l'incenzo ha cominciato a scendere tra pochino ve lo mostro allora ragazzi abbiamo il sopra che è così azzurro maniche corte questo il solito buon cotone avon e a queste ballerine davanti eccole qua vedete il sotto invece è blu scuro con questo effetto stellato all'elastico in vita ma è largo sotto quindi non ha l'elastico anche sotto il solito buon cotone vi ricordo sempre per chi non mi non mi segue da tanto tempo che io mi trovo molto bene con tutto quello che è diciamo la linea base di avon nel senso proprio della linea sua non compro mai perlomeno non penso anche questa volta la cotonella ma perché purtroppo io so chiattona e anche la taglia più grande non mi stringe ecco sarà fatto il fumo ci sto passata accanto allora ragazze che dite vi mostro direttamente il prodotto cannato perché cannato poi in realtà l'ho cannato è questo è una tuta per il tempo libero floral floral longe per quale motivo perché ovviamente comincia il caldo io ragazze che per andare di corsa mi piaceva la fantasia non sono andata a leggere i materiali e quindi adesso mi ritrovo una cosa che credo sia simile pile quindi ovviamente poco male andrà bene per il prossimo anno però ovviamente peccato dovrò comprare un altro pisama ma che peccato eccolo qua ragazze infatti è molto è di pile praticamente questo è il sotto qui sopra e sotto sono identici la parte alta sia l'elastico che la fettuccia mentre la parte sotto ha proprio l'elastico quindi sta cosa deve essere di un caldo pauroso io continuo a passare vicino all'incenso mi sa che non vi mostrerò mai la parte in alto idem stesso colore ha lo scollo a v eccolo qua e elastico vediamo non ha elastico né in fondo né sui polsini tutto pile ragazze quindi andrà bene per il prossimo anno adesso lo lavo e la metto via con la roba invernale praticamente poi altro pigiama questo si chiama l'i lace lavender eccolo qua qui ci spostiamo sul bordeaux per un erro questo dovrebbe avere le maniche lunghe che l'avevo preso appunto per questo periodo dell'anno vediamo un po' se almeno questa sono riuscita a non sbagliarlo ma questo è bellissimo ragazze sia nelle rifiniture infatti c'ha le maniche corte quindi l'ho preso per più avanti ma anche il materiale è veramente figo allora il sopra è bordeaux eccolo qua vedete le maniche corte e ha questa rifinitura questo simil pizzo sia sulla scollatura sia sulle manichine in fondo cade morbido e questo è il pigiama sotto quindi vedete questa fantasia a fiori sempre elastico e fettuccia anche in questo caso non ha l'elastico in fondo quando li compro primaverili barra estivi non mi crea problemi in inverno preferisco quelli con l'elastico in fondo cioè ragazze ci credete che non uscivano i cani da quando ho girato l'ultimo video praticamente e oggi sono di nuovo qui a fare il concerto i boicottano poi ragazze qui ci ho messo un quarto d'ora perché non l'ho voluto aprire ho detto lo apro con le ragazze durante il video cocao butter short cocao butter short io ancora ad oggi adesso che lo aprirò con voi non so che cavolo ho preso ho un vago sentore perché ero in dubbio tra due prodotti e adesso vediamo se effettivamente è quello che penso allora intanto l'incarto è molto carino perché arriva in questa velina rosa e infatti è lui è lui allora ragazzi questi sono degli short come potete vedere elastici e praticamente per quale motivo l'ho preso perché sapete che penso che ne soffrano in tante a volte l'estate sotto i vestiti ti fa sfregamento sulle cosce e può capitare che c'è necessità di mettere o una crema apposita contro lo sfregamento o quelle bande le bandelette per proteggere appunto la coscia siccome a me a volte non sono sufficienti soprattutto se debbo stare fuori tante ore ho sempre questi short da mettere sotto dei vestiti soprattutto se il vestito è particolarmente lungo quindi non rischio che si veda lo short preferisco avere lo short sotto il vestito così sono sicura di risparmiarmi questa sofferenza perché chi lo soffre lo sa quanto è fastidioso poi ragazzi qui andiamo sulla casa questo l'ho aperto come potete vedere arriva tutto avvolto in questo modo ed è una candela in latta da quando diciamo sto ricollaborando con Avon vi devo dire ragazzi che una delle cose che mi sta piacendo di più sono le candele devo dire che il rapporto qualità prezzo è ottimo mettiamo anche questo perché insomma chi ama le candele guardate che bella la confezione appunto è in latta si chiama Lavender Blossom come vi dicevo ragazze è ottimo perché chi sa ama insomma le candele e sa quanto costa una buona candela può rendersi conto che il prezzo è assolutamente vantaggioso è fatto in questo modo profuma che non potete capire vi farò sapere poi se è valida anche da accesa perché sappiamo che un po' tutte le candele profumano da spente ma scopriremo se funziona anche da accesa per il momento non ho avuto grosse delusioni tra l'altro spero di riuscire a pulire bene il contenitore perché questo me lo voglio proprio tenere me garba poi abbiamo quasi finito ragazze questo è sempre un prodotto Kata nel frattempo oddio perché si si spenge perché è già quasi finito l'incenso non si vedrà mai niente perché l'ho mosso c'è vento tra l'altro praticamente qui c'è un buchino l'incenso scende giù se non c'è una gretina che fa così col dito e scivola giù lungo queste pietre e si va a radunare qua sotto io penso voi lo vedete proprio parzialmente perché purtroppo vi ripeto ci sono io che continuo a far così e ci sono le due finestre aperte però ragazze veramente carino allora prodotto invece relativo alla casa scola pasta per pentola io spero veramente che questo aggeggio funzioni perché ragazze altra cosa che veramente chi mi conosce lo sa io ho casa con buco e uno dei problemi che ho maggiormente in cucina è quello dello scola pasta perché li ho comprati che si piegano ma dopo poco si rompono li ho comprati con il manico ma occupano troppo spazio quelli diciamo a mod di insalatiera che te lo dico a fare ragazze insomma è uscita fuori sta cosa che praticamente ha questa molla qui quindi si va a mettere sul lato della della pentola proprio così guardate vedete qui c'è l'indicazione e dopo di che si va a scolare semplicemente inclinando la padella io spero che funga veramente perché insomma voglio dire lo spazio di ingombro sarebbe veramente molto più piccolino ma se funzionerà o meno ve lo saprò dire più avanti poi ragazze ho preso e abbiamo finito perché mi li avevo terminati proprio incredibile a dirsi avevo io me medesima vediamo se qua c'è qualcosa altro ah sì avevo terminato gli shampoo e balsamo vi tosta notizia succede anche ai migliori ragazze ebbene si li avevo finiti ho praticamente bagnoschiuma per poter fare una guerra ma avevo finito lo shampoo e quindi ho voluto riprendere dell'advance techniques shampoo balsamo e spray dell'ultimate shane quindi il trattamento lucidante per capelli poi l'ultima cosina che mancava che non mi ero accorta è lo spray da borsetta diciamo il profumo da borsetta dell'artistique questo sempre a memoria dovreste ricordare che era il mio preferito di questa linea siccome ho 180 profumi iniziati non ho voluto riprendere la full size buono sempre buono molto persistente questo e mi sono ripresa quello da borsetta ragazze questo è tutto il mio spacchettamento eccolo qui fatemi sapere sotto se qualcuno di voi ha preso a sua volta uno di questi prodotti fatemi sapere se invece non li avete mai visti come sempre vi ricordo ragazze che se avete bisogno di qualsiasi tipo di informazione potete scrivermi sotto nei commenti o altrimenti insomma cercare i miei ricapiti sono Sara quanto basta anche su facebook e mettervi in contatto con me per qualsiasi tipo di domanda acquisito e curiosità che possiate nutrire vi mando un bacio grande grande grazie per aver visto questo video ci vediamo alla prossima speriamo che non sia fra altri 4 mesi ciao ragazzi grazie a tutti i miei